Dopo il crollo del ponte di Genova, il consigliere comunale di Chieti per Chieti, Diego Ferrara e Federico Gallucci, responsabile regionale a enti locali del movimento Energie per l'Italia di Stefano Parisi, hanno scritto ai quattro prefetti abruzzesi per dare contezza della sicurezza o meno di strade, ponti, viadotti e indicare un percorso da seguire. Ma la risposta è arrivata, lo chiediamo a Gallucci. Dunque sono passati soltanto pochi mesi da quel drammatico 14 agosto, noi ci attiviamo immediatamente per attenzionare questa problematica ai quattro prefetti quali rappresentanti diretti territoriali del ministro degli interni e abbiamo indicato un percorso ai prefetti. Noi abbiamo detto ai prefetti che hanno facoltà e poteri in nome della tutela dell'incolumità e della pubblica sicurezza di attivarsi presso il dicastello delle infrastrutture della regione per acquisire un elenco dettagliato degli enti proprietari delle strade. Abbiamo chiesto ai quattro prefetti di diffidare gli enti proprietari delle strade all'invio dei piani e dei progetti sulla sicurezza e sulle manutenzioni delle infrastrutture aeree. Abbiamo chiesto ai quattro prefetti di attivarsi con un tavolo tecnico di concerto con il ministero per gli interventi di manutenzione. Ad oggi purtroppo, ahimè, non ci è arrivata nessuna risposta. Abbiamo assistito degli interventi spot, propagandistici. Il ministro Toninelli si è regato con le telecamere delle Iene sotto il viadotto dell'autostrada dei parchi che io ho percorso ieri tornando da Roma e mi sono fatto il segno della croce. Io ricordo che i prefetti, in virtù degli articoli 5 e 6 del codice della strada, hanno i poteri di inibire la circolazione dei mezzi pesanti nelle strade fuori dai centri abitati. Hanno i poteri di emanare direttive e di concerto con il ministero delle infrastrutture. Noi crediamo che il popolo abruzzese abbia diritto di sapere quantomeno se percorre un ponte o un viadotto, quale è sicuro e quale no. E nel programma di appoggio al candidato di centrodestra alle regionali il punto fondamentale sarà proprio questo, prosegue Gallucci. Noi siederemo al tavolo politico programmatico del centrodestra e ovviamente la prima cosa che faremo sarà quella di chiedere la massima attenzione alle forze politiche di centrodestra per la sicurezza dell'infrastruttura aerea della regione Abruzzo. Grazie 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 Grazie